Va a completare l'allineamento Tutta rete la prima fila Si ritrae Misa Balilla, si ritrae Miro de Gloria Stacco della macchina con Maramaldo Griffe, Mela Verde Wise alle prese con Mela Verde che insiste, passa dopo 80 metri di corsa Battistrada quando si imbocca la prima curva, dall'esterno è veloce, Madison OM Il 200 di strappo di Mela Verde Wise in 14,3 Strappo normale, si getta di galoppo Maramaldo Griffe e così la seconda posizione della corda viene presa da Madison OM che evita un insidioso percorso aria in faccia Si vengono a completare la prima curva, i primi 400 metri con la favorita Mela Verde Wise al comando, 29,7 la frazione normale, secondo Madison OM Mentre di fuori inizia a risalire Marlar Mar, terzo sotto c'è Mirage B avanti a Miro de Gloria I 600 di Mela Verde Wise se ne vanno via molto tattici in 45,8, 31,5 dall'imbocco della cura fino al palo per il passaggio Si imbocca adesso la seconda curva con Mela Verde che controlla, Madison che è secondo, Mirage che è terzo Di fuori c'è sempre Marlar Mar filata da Miro M, Mirode Gloria che taglia fuori Misa Balilla 31,6 secondo parziale, 1,1,2 a metà gara, sta per finire la seconda curva, si andrà di fronte alle tribune Mela Verde ha una lunghezza su Madison OM che è coperto da Marlar Mar che però sembra già lunga e richiesta Il chilometro di Mela Verde in 1,16 e mezzo, 37 dal palo, sino metà le tue opposte Viene via in terza corsia Mirode Gloria perché non ha più la scia giusta quando si va in bocco dell'ultima curva Con Mela Verde che ha una su Madison, arriva a Mirode Gloria, guadagna di dentro Mirage B 400 metri dal palo, il parziale in 36, 1,31,9, tre quarti di miglio con Mela Verde in fuga Una su Mirode Gloria scufiato, di dentro sempre Madison B che è richiesto con la frusta da parecchio tempo Siamo verso l'ingresso della retta d'arrivo, si avvicina pure Misa Balilla Ecco la retta d'arrivo con Mauro Baroncini che si volta a destra, Mela Verde Wise sempre in evidenza Mauro non sta neanche girando il frustino, sta controllando la situazione Anche se non stacca compiutamente del tutto Mela Verde Wise viene comunque a vincere al minimo dei giri nei confronti di Mirode Gloria e Misa Balilla 31 gli ultimi 4, 2,29 il tempo totale, ecco le immagini Quindi Mauro Baroncini guarda a destra, si preoccupa solo di vedere che succede alle sue spalle La vittoria è come detto al minimo dei giri, ovvero sia nel più facile dei modi Mela Verde Wise apre il risultato di oggi a San Siro Mauro Baroncini